Francesco Delis, stavolta è arrivato un gol da tre punti che compensa il rammarico per quello nel derby con la Nocerina. Sì, sì, sono molto contento per questo gol, questa vittoria. Siamo tornati alla vittoria dopo tanto tempo e sono molto soddisfatto che è avvenuto con un mio gol. Ecco, tutti avevano scommesso su un'altra sconfitta della Paganese, la squadra è riuscita a trovare carattere e la forza per risalire la china. Nessuno si ha aspettato, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sofferto, abbiamo lottato, dopo un buon primo tempo, loro nel secondo tempo sono saliti d'intensità, di gioco, noi abbiamo resistito, ripartiamo contro piede, abbiamo fatto una grande partita, sono molto contento. Quanto è importante per il morale una vittoria come questa, per un gruppo giovane come il vostro? Moltissimo, moltissimo, l'aria che si respira veramente è diversa, adesso c'è più voce, c'è ancora fame, perché quando si vince è bello e si vorrebbe sempre vincere. Subito una prova del 9 importante contro il Frosinone. Una grande partita, loro sono molto forti, spiegano di fare una grande partita come abbiamo fatto a Prato. Si parla anche di tante voci che rivolgono vicino al club importante e alla massima serie, come vivi tu questo momento? No, vabbè, io penso a giocare a Vaganese e fare bene qui, penso al futuro e spero di far bene qui e poi si vedrà. Cosa ha portato Mister Belotti? Ha portato entusiasmo, ci alleniamo bene, con entusiasmo, la squadra adesso siamo un bel gruppo e cercheremo di far bene già la domenica. Ci si può arrivare ancora al quarto ultimo posto? Speriamo, ce la metteremo tutti.